Michele aveva appena 15 anni ma già sapeva di voler fare il carabiniere. Lui che nei vicoli della Barivecchia non ha fatto in tempo a crescere avrebbe voluto portarci dentro la legge, quella giusta, quella senza soprusi né violenze. Michele era giovanissimo ma già sapeva da che parte stare, anche se non poteva certo immaginare che in un giorno qualsiasi di luglio sarebbe stato ucciso da un proiettile vagante, vittima innocente coinvolto suo malgrado in una guerra fra clan rivali. A raccontare la storia di Michele Fazio è stato oggi papà Pinuccio Fazio, ospite dell'Istituto Alberghiero di Cecco di Pescara nell'ambito delle iniziative del 25esimo premio nazionale Paolo Borsellino. Non è un mio compito sconfiggere le mafie, quello è un compito delle forze dell'ordine, della magistratura, dello Stato, ma il mio impegno è quello di salvare i giovani dalle mafie, cercare di non far entrare i giovani nelle mani delle mafie, perché lo dico sempre in tutta Italia, quando vado a parlare nelle scuole chi entra in quelle mani delle mafie non avendo uscito il carcere, il cimitero. Ricevere questo premio in memoria di Paolo Borsellino per me è un onore, per me è una gioia perché non ho avuto quella gioia, quell'onore di conoscerlo ma ho avuto quella gioia di conoscere la sorella. Questo premio io lo vorrei dedicare al mio avvocato, all'avvocato di famiglia Michele Laforgia perché è lui che mi ha insegnato di camminare con queste gambe, di fare questo percorso. Se oggi sono qui e continuerò questo cammino è perché lo devo dire grazie a Michele Laforgia. Bari, Bari Vecchia, è cambiata dopo quell'episodio? C'è una prevalenza di voglia, di legalità? Bari Vecchia a distanza di vent'anni è cambiata, è cambiata perché io abito in quella strada a Mendoni 1 ma non ho nessuna voglia di andare via ma anche quella criminalità organizzata ha capito le mie idee, le nostre idee di cercare le strade della legalità. Lo dico sempre a loro salvatevi, non pentitevi ma voltate pagina, voltate pagina e cercate di salvare i vostri figli e i figli dei vostri figli. Un messaggio forte noi oggi vogliamo mandare con la presenza di un personaggio straordinario come Pinuccio Fazio e vogliamo dire che la legalità si costruisce soprattutto attraverso la solidarietà. La logica della solidarietà, la logica comunitaria, quella che dice no all'indifferenza, no all'individualismo, no al voltarsi dall'altra parte costituisce la strada maestra che noi vogliamo indicare ai nostri giovani.